Sto per andare in Germania e se avete visto alcuni dei miei video saprete che sono una ritardataria infallibile E dimentico sempre tutto, quindi ho stilato una lista per la partenza di cose da fare Tampone, fatto, non chiedetemi per quale motivo lo richiedono nonostante io a viaggiare al Green Pass Check in, fatto, si passa alla valigia raga Ah, e come valigia ovviamente intendo uno zaino, tanto ormai lo sapete che quando viaggio mi porto sempre lo zaino E all'interno metterò questa spazzola che è di GHB ed è super piccola Un po' di skincare, ovviamente ho controllato i grammi e i millilitri Siero con tornocchi per le mie occhiaie pazzesche e best struccante ever E perché no, anche una bella maschera idrosante Spazzolino Il vestito per stasera, vi spoilerò solamente il tessuto perché poi vi posterò ovviamente una foto su Insta Scusate, ma mini pausa caffè che mi serve tantissimo Possiamo riprendere la valigia Utilizzerò questa trousse di Benefit per mettere tutto il make-up all'interno Tacchi carne Mi sono vestita abbigliamento super easy per l'aereo Adesso controlliamo la lista Valigia, fappa Make-up messo e ho messo anche un po' di correttore E poi ricorda Tacchi Vestito Gioiellini di Pure Lay perché spoiler l'evento di Pure Lay Skincare, caricatore e le medicine raga me ne stavo dimenticando Prese Ci siamo Si parte E all'aeroporto mi accompagnerà il mitico Paolino Che si è mezzo addormentato ma dettagli Se vi va, seguitemi su IG Lì vi faccio vedere tutto tutto Capitolo 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 Capitolo